Basta, non ce la faccio più! Continuo ad essere presa in giro, non ce la posso fare! Ma com'è possibile che mamma e papà sono sempre lontano da me? Cos'ho di sbagliato? Cos'ho di sbagliato? Dittemelo! Le risate sembrano pugnali che mi pugnalano sempre dentro di me! Non è possibile! A scuola non ci voglio più andare perché ci sono queste persone! Ehi! 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 Alicia! Ehi! Oddio! Mara? Che è successo? Cosa ci fai qui? Sono qui per consolarti! Guarda che la vita è sempre bella! Non bisogna mai arrendersi! Perché la vita è bella! Capisci mi? Cioè, le cose non vanno storte come pensi tu! E... Pensa! Io... Quando ti ho vista piangere per i corridoi, quando ci ho visto gridare... Sai... Mi spiace! Ti vorrei aiutare! Vieni con me! Perché adesso è ora di smetterla! Sai, sono stata abolizzata anch'io! Anzi, tutt'ora vengo abolizzata dai nostri compagni di classe! Io non faccio niente! Tu non l'hai mai vista! Ora... Scappiamo insieme da questo tunnel! Il silenzio non vale a niente! Facciamoci sentire! Non sentirti così! Perché anch'io all'inizio mi sentivo così! Mamma e papà sono sempre stati lontani da me! E... Adesso ormai ho imparato a vivere questa esperienza! Adesso... Vieni con me! 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 Grazie.